Una multifattori è un ambiente di lavoro a governance partecipata. Governance partecipata significa che le aziende che entrano dentro un multifattori, che entrano a far parte della multifattori, hanno anche il compito, si assumono il compito, di gestirla. Quindi non c'è un intergestore esterno, una società che prende lo spazio, lo gestisce come in altri modelli, ma è un soggetto creato dalle aziende stesse che sono dentro un multifattori. Quindi chi vuole porre la propria attività dentro una multifattori, entra anche a far parte di questo ente di gestione, che può essere un comitato, che può essere un gruppo informale, ma di solito è un'associazione in maniera tale da poter anche interagire con l'esterno in maniera differente. Però la cosa importante è questa. C'è un gruppo di aziende che si riunisce in associazione e che gestisce lo spazio nel quale pone la sede, la base della propria attività. E quindi è chiaro che tutte le decisioni, in merito a ciò che l'associazione andrà a fare, in merito a ciò che la multifattori andrà a fare, quindi come si propone se fare degli eventi verso l'esterno, come impostare il sito web, tutte queste cose sono decise direttamente dalle aziende che sono dentro un multifattori.